eccoci ritornati qua con la seconda parte continuiamo perchè abbiamo trovato l'abbiamo allenato Zardes da 69 di Gen è diventato a 70 e andiamo avanti con la campagna di Cristiano Ronaldo ok siamo contro una squadra che sembra abbastanza che sarà abbastanza pull per non non credo che ci farà ah vedi siamo 70% no aspetta io devo fermare devo cambiare anche i comandi di gioco perchè preferisco ok andiamo facciamo così che mi esce meglio eh infatti si vede c'è neanche se ci mettono col Barkari c'è forse anche un po' la squadra vediamo se facciamo gol nella prima partita almeno cioè spero ok andiamo veloci vediamo facciamo gol cosa cavolo ho fatto cosa cavolo ho fatto ah vabbè c'è il rinvio fine cosa ho fatto cosa cavolo ho fatto ho fatto una cavolata ragazzi che cavolata che cavolata scusatemi un attimo Cristiano Ronaldo apriamo boom eccolo qua Cristiano Ronaldo Portogallo Real Madrid e non può essere messo l'arsta ovviamente aggiorniamo la squadra così ce lo fa già lui in automatico ok adesso dobbiamo fare il dovevamo scegliere sono indeciso io non vorrei prendere come al solito la Juve che è forte ovviamente non dico ma vorrei prendere anche qualcos'altro per per fare cioè per giocare meglio cioè perché se no ti annoi con forti io sceglierò il Benevento con il Panorama Comics che ovviamente seguo e seguite anche voi mi raccomando seguite siamo il Benevento il Benevento e se non so perché non so perché ho scelto però mi ispira il Benevento Benevento a me piace così non per dire che poter ormai andare in retrocessione o intanto abbiamo trovato Gravillon ah mi ricordo che qua ho trovato Bernardeschi no non Bernardeschi non mi ricordo ve lo dirò in un altro video che con un altro video quindi ragazzi facciamo il 2 contro 2 gioco online ovviamente non siamo ancora classificati perché il pigmatch finisce tra 4 giorni ok un po' strano ah vabbè adesso sono contro allenatore quindi vabbè sono uno in più sono uno in più e e quindi non boh vediamo vabbè io qua all'inizio buttovi spreco sempre un po' un po' per perché adesso ti fa partire già da metà campo con una pum ma che schifo ma dai buono c'è l'ottima occasione ma perché no ma dai ma palo cioè adesso non facciamo sto figure con forse ho fatto male a scegliere il benevento cioè buono dai un gol l'abbiamo fatto scusate perché mentre lo prendo mi 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 va di là e non mi si sposta e quindi voi non vedete me non vedete benissimo e vabbè ce l'ho fatto con il cinese il cinese il cinese il cinese il cinese ha segnato vabbè dai tentiamo tentiamo il tiro da qua vediamo vediamo che succede il tiro da qua ma dai ma fuori vediamo se ci riesce a fare ancora uno oh no dai a buono c'è il la partita è finita abbiamo pareggiato contro gli allenatori scusate un attimo un attimo scusate un attimo buono dai giochiamone un'altra guardate che le ho rimette un po' posto ok vabbè secondo me ci hanno messo con un 60 cioè perché siamo bravi secondo me perché lui ha visto che noi siamo abbastanza bravi ce la caviamo quindi zarda si ha segnato già vabbè dobbiamo dire che ha anche una marcia cioè anche due marce in più perché ha un Vigeno più alto di noi ovviamente ah madonna ma che portiere ha poi Reina cioè a mo e mi segna ma basta quello qua lo voglio sfidare con 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 l'altro mio account che vediamo li fa vediamo chi vince e chi dopo ride soprattutto boh 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 ma questo qua dovrebbe dovevamo farlo valere due c'è no dai ti prego fai gol dai ti prego no abbiamo perso la prima siamo sfortunatissimi eh abbiamo perso abbiamo perso comunque a me mi piace perché ho giocato anche bene cioè vabbè lui salire niente ho perso vabbè quindi ragazzi vabbè dopo faremo forse anche campagne se scendiamo il video si conclude qui grazie di essere stati ovviamente con me ci vediamo un altro video mi raccomando il sondaggio sotto scrivete se vi è piaciuto volete il Benevento o la Juve ciao finiamo con 10 con 10 minuti giusti